Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui da Altana delle Tigri a Bernò, come vedete 4 minuti e 52 al termine di questo quinto livello di giornata, 100-200 i bui e ci apprestiamo ad andare verso il sesto livello quando i bui saliranno a 150-300, 20.905 l'average del torneo su un totale di 5 milioni e 80 mila chip distribuite, vedete la sala ancora completamente gremita, veramente un'organizzazione perfetta fino a questo momento ma soprattutto una location spettacolare come avete sicuramente potuto vedere dalle foto, noi ci aggiorniamo i prossimi aggiornamenti video della sala, magari vedremo di prendere anche qualche mano in diretta direttamente dai tavoli, come sempre pocketitaliaweb.org, ci vediamo dopo, ciao a tutti